Tussi Kevales 2021 ha decretato il suo vincitore, la finale, in onda sabato 27 novembre 2021 in prima serata, è stata vinta da Sadek Geometrie Variable. Oltre alla gloria, il performer si è intascato un monte premi pari a 100.000 euro in gettoni d'oro. La settima edizione del talent show di Canale 5 ha consacrato anche il trionfatore della gara parallela della spassosissima Scuderia Jerry. A spuntarla è stato Giampiero Landolfo, a cui è stato regalato un viaggio a Las Vegas, Sadek vince Tussi Kevales 2021, Sadek raccoglie il testimone di Andrea Paris, il brillante e simpatico illusionista che si è aggiudicato la stagione 2020 di Tussi Kevales, la giuria, per l'ultimo atto della trasmissione. È stata composta come al solito da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Theo Mammuccari e Sabrina Ferilli. A differenza delle precedenti puntate, per la finale è stato attivato il televoto. I giudici si sono così limitati a dare soltanto dei pareri e a stabilire il vincitore del premio Team Vision dal valore di 30.000 euro in gettoni d'oro. Theo Mammuccari, prima che venisse decretata la vittoria di Sadek, ha fatto dei sentiti complimenti alla Rodriguez, Belen, complimenti davvero. Siete stati bravissimi con Martin e Giulia. Da casa non si vede cosa succede qui in diretta ma non è facile. Brava e bravi, punto, Tussi Kevales, premio Team Vision a Mattia Villardita. Il premio Team Vision passione per il talento lo ha avuto Mattia Villardita. Grazie alla mia famiglia che mi ha traghettato fino a qui. Grazie anche ai miei amici che mi hanno spinto a essere quello che sono, le parole di Mattia sul palco. Villardita, vestito da Spider-Man, è impegnato nel quotidiano a regalare momenti spensierati ai piccoli pazienti degli ospedali pediatrici. Nel televoto definitivo, a cui hanno partecipato i quattro vincitori dei rispettivi gironi, ha ottenuto il favore del pubblico Sadec Geometrie Variabile.